C'è questo suono ci vanno i tamburetti con prima e seconda botta perché questo suono è originario e ora è morta all'organetto c'è nato Verdoce, figlio d'Arti e vero Motticiano e tamburetti Paolo Sigladi e Andrea Paviglianite due amici Cunca aprimolo oggi sul nostro giro caccarono se Cunca Grazie a tutti 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 Grazie a tutti